buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel breve video di oggi andiamo a vedere assieme che cos'è la block chain di tezos come nata come è strutturata come funziona e quali sono le diversità che la contraddistinguono se ce ne sono dalla rivale e tirium ma prima di cominciare con questo video vi invito se vi piacciono i miei contenuti a supportare il mio lavoro scrivendovi al canale e se avete voglia di fare due chiacchiere insieme a noi di ricevere assistenza di cui avete bisogno di cliccare sul link in descrizione per accedere anche alla nostra community su telegram ma ora andiamo a vedere che cos'è la block chain di tezos siamo sul sito ufficiale di te dos raggiungibile all'indirizzo tezos puntocom ma andiamo a vedere insieme che cos'è questa block chain innanzitutto tezos è stata una ico una delle più grandi ico della storia poiché ha raccolto 232 milioni nel 2018 dalla sua ico fino più o meno al 2020 tezos ha avuto dei problemi legati alla gestione del progetto open source ma circa dal 2020 ad oggi questi problemi sono stati risolti e tezos come potete vedere negli ultimi periodi sta guadagnando molto terreno grazie alla popolarità del suo meccanismo di staking ma andiamo con ordine tezos è una block chain decentralizzata volta a creare applicazioni decentralizzate esattamente come tiro quindi delle dap utilizzando dei contratti intelligenti degli smart contract tuttavia una cosa che la distingue dai tiri um e la governance non c'è in della rete che consente ai passessori di xt z che è la moneta nativa di tezos di votare e di partecipare alla governance della rete questa funzione tuttavia questa funzione di voto è stata progettata per evitare la divisione della comunità questa divisione viene tradotta in gergo in un hard fork questo significa che rispetto a tante altre blocce nella blocce di tezos è molto più facile da aggiornare ed è sempre aperta ad aggiungere le ultime innovazioni della sua rete tezos è nata nell'idea di arthur breitman e poi è stata elaborata dallo stesso e insieme a kathleen breitman e attualmente gli uffici hanno sede a san francisco ma andiamo a vedere che cos'è la governance on cene secondo tezos tutte le parti interessate possono partecipare alla governance del protocollo la governance on cene funziona in modo molto simile a un processo democratico standard diciamo che uno sviluppatore propone una modifica al protocollo che dovrebbe migliorare in qualche modo la block chain mentre avanzano e suggeriscono questa modifica propongono anche una futura per il lavoro proposto quindi tutti i titolari di xt z t votano sulla proposta se la modifica e la proposta supera il voto viene distribuita nella rete di test una volta che l'assegno proposto è stato testato a luogo un'altra votazione se i possessori di xt z decidono di mantenerlo la modifica viene spostata nella rete principale i due maggiori vantaggi dalla governance on cene sono la struttura degli incentivi per gli sviluppatori per continuare a proporre nuove idee e migliorare il protocollo il sistema di voto democratico così facendo da voce ad ogni stakeholder e impedisce la centralizzazione della rete l'algoritmo di consenso viene chiamato l p o s ovvero liquido e prof o stake e di note tutti gli smart contract possono essere programmate all'interno della block chain nella lingua madre di tezzos ma anche in altre lingue di programmazione e questo offre un enorme flessibilità in questo senso il linguaggio di programmazione di teso spero di pronunciarlo bene si chiama michelson block chain di tezzos è stata costruita con meccanismi che sono atti a garantire la partecipazione governance attiva di tutta la comunità e questa è una delle componenti chiave del web 3 infatti tezzos è governato dalle persone gli utenti sono in grado di agire attivamente proponendo valutando e approvato e approvando le modifiche di tezzos questo è un enorme vantaggio perché consente alla block chain di tezzos e di rimanere sempre aggiornata per quanto riguarda la tecnologia infatti è progettata per adattarsi molto velocemente regolare ad aggiungere delle caratteristiche grazie alla sua governance on chain il token x t z di tezzos è il token attivo della block chain e viene utilizzato per interagire con le dapp pagare le commissioni e fornire unità di contabilità di base sulla piattaforma e andare a proteggere la rete tramite lo staking diciamo che ha diversi vantaggi tezzos utilizza il meccanismo di consenso liquid proof of stake e questo richiede solo gli utenti di fornire delle risorse necessarie mantenere il funzionamento la sicurezza della rete la cena di tezzos consente a qualsiasi stakeholder di partecipare al meccanismo di consenso e offrire ricompense per aver contribuito alla stabilità e la sicurezza della rete stessa tezzos ha un'architettura modulare un meccanismo di aggiornamento che consente di adottare aggiornare la cena senza particolari problemi avrà un rifornimento massimo circolante di 10 miliardi di token e durante il blocco genesi durante la creazione del suo primo blocco ha immesso sul mercato circa 700 milioni di token attualmente la ricompensa per ogni blocco è fissata tra i 40 e 50 xt z tuttavia non potrà mai esserci un'inflazione superiore al 5 per cento secondo disposizioni ben precise che sono state scritte nel teso seed protocol tornando per un attimo a parlare del protocollo di consenso il liquido e proof of stake che è un diretto derivato dello proof of stake è progettato per consentire ai validatori di estrarre un blocco e necessitano di un set di firme per offrire la validità dello stesso blocco modo molto semplice un gruppo di validatori può generare un blocco ma solo il blocco che riesce a raggiungere l'instieme di firme necessarie per superare il consenso verrà scelto per far parte della blog chain e il resto dei blocchi vengono rifiutati il processo di generazione di blocchi è quello che permette di guadagnare la ricompensa stabilita in xt z ma anche coloro che firmano il blocco guadagnano dei token xt z inoltre ovviamente sono incluse nel protocollo liquid prof of stake delle protezioni che vanno a proteggere l'ecosistema dalla doppia firma si sentirà spesso parlare di becker di cuocere il blocco ma che cosa vuol dire perché i validatori vengono chiamati becker il lavoro dei becker se è quello di avere potenza di calcolo e a staking di token xt z e da loro il diritto di produrre dei blocchi in base alla partecipazione all'ecosistema questo processo viene eseguito secondo delle regole ben specifiche di consenso del liquid prof of stake una di queste per diventare un becker sulla blog chain di tezos bisogna avere uno staking minimo di 8000 xt z ovviamente maggiore sarà la partecipazione maggiore sarà la possibilità la probabilità di generare un blocco un'altra caratteristica è che per generare il blocco bisogna anche effettuare una deposito occasionale una cazione ovvero una prova di puntata di circa 512 xt z per blocco e questo blocco viene e questo deposito viene bloccato per circa 14 giorni ed è una protezione contro le truffe nel senso che il becker ovvero il panettiere se esegue una doppia firma dei blocchi in qualche modo cerca di truffare l'ecosistema all'interno del liquidi prof o stay che questo panettiere andrà a perdere tutto il suo deposito ovviamente c'è chi non può possedere 8000 token per partecipare alla creazione dei blocchi ma vuole comunque partecipare alla creazione per la punta di questi blocchi allora che cosa può fare può fare il delegate prof o stay che quindi consente ai possessori dei token di prestare le proprie monete ad un becker facendo così il validatore ha molte più possibilità di essere selezionato perché oltre ad avere i suoi tocchi nel suo quantitativo di token avrai token che sono stati prestati dagli utenti come abbiamo visto tezos oltre ad avere il suo linguaggio specifico può essere programmata tramite smart con tra le sue applicazioni con tantissimi altri linguaggi di programmazione come per appunto solidity fight on pascal e altri ancora supporta anche la creazione di token non fungibili supporta lo stand a rc 20 e le rc 721 e le rc 11 55 in questo modo può interpolarsi con i tiri un veramente in modo molto semplice e veloce quindi la velocità di programmazione l'inter polarità e supporto con altri tipi di linguaggio permette a tezos rispetto ai tiri un che si può utilizzare programmare solo in solidity di essere molto più attraente da parte degli sviluppatori e di poter creare più facilmente da e smart contract e forse è passato magari in secondo piano ma anche la possibilità di essere più modulare di aggiornarsi in continuazione senza creare un hard fork è veramente una caratteristica importante che non tutte le cene possono vantare infatti di base è stata progettata per essere una cene sicura ma soprattutto molto molto scalabile in ultimo tezos ha collaborato con numerose istituzioni tra cui il gruppo taurus and a capital è l'università della corea block chain research e tantissimi altri è una delle partnership nota è la partnership con coin base una del sito oltre avere tutti i link ai social è una spiegazione dettagliata di cos'è tezos e quali sono i suoi obiettivi si può trovare una sezione per andare a imparare concetti base sia su tezos ma sia su altri concetti come ad esempio che cosa sono gli nft la block chain e cosa sono gli steak e cosa sono i wallet via dicendo c'è la parte dedicata agli sviluppatori e la sezione dedicata al suo ecosistema dovevi vedere come acquistare tezos quali wallet lo supportano la community le carriere in qualora voleste candidarvi alle posizioni aperte o i progetti che stanno entrando che sono entrati nell'ecosistema bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile di facile comprensione vi invito a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto ciao a tutti ciao 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 ciao